Aspetta, diciamo tra qualche minuto. L'interrega di Bari, sbaglia il colpo versita. Ordano, Passaro, Abbao. La stagione per lui l'anno scorso così all'interno del campo, come sempre in difesa all'interno del campo. Tanto silenzio, intanto il tedesco, pallone l'indietro, pianometro, il fischio dell'arbitro, tedesco, il giro, finisce De Boleil. Che duezza con Anzalone, pallone versita. L'interrega di Bari, sbaglia il colpo versita. Tantissimi metri, palla interessante per Di Filippo verso il centro tedesco. Svirgola un po' la conclusione blu di Mr. Erna. Riesce comunque a prendere tutti i palloni di testa e protezione di sopra. Tutto bene, poi la conclusione. Nudo, fischio dell'arbitro, batte Zaminga. Pallone che finisce tra. Tantissimi regolare. Il doppio fischio dell'arbitro, con il segno la gente. Ma il cambio all'interno del campo farà adesso è tornata la conclusione di sinistro. Un mettere. C'è Martone, allarga tutto per Anzalone. Non c'è nessuno in mezzo, adesso c'è Martone. Non c'è nessuno in mezzo. Non c'è nessuno in mezzo. La conclusione è fortissima! La conclusione è fortissima!